Sono Giambattista Vellino, sono l'autore di Il cono di luce del futuro dell'evento, è un romanzo noir edito da Instar. Il cono di luce del futuro dell'evento è il mio primo romanzo, come dicevo è un noir e racconta la storia di un uomo misantropo che si è costruito una vita, un guscio, una vita asettica, algida e anaffettiva, che è spettatore della vita, della sua vita e della vita degli altri, fa il guardiano notturno in una fabbrica ipertecnologica, questo suo isolamento notturno è dovuto anche a un difetto che ha della vista, una patologia, acromatopsia si chiama, è un difetto, una patologia che comporta l'assenza dei colori nella visione e dà una forte intolleranza alla luce e quindi questo negli anni lo ha portato a cercarsi una vita isolata e notturna. Questo suo isolamento, questa sua misantropia, questo suo essere spettatore penetra un'ombra, un'ombra che poi è quella di una donna, che lo attira diciamo in una trappola, in un suo progetto nel quale diventa protagonista e vittima, proprio perché vittima. Tutta la mediazione verso il mondo che ha questo personaggio è data dallo sguardo, dal fatto di vedere, dal fermarsi alle apparenze, alla visione e proprio questo suo punto di vista, in caso di dire, è quello che lo porta alla perdizione, è lo strumento ideale per questa trappola nel quale si trova invischiato. Il cono di luce del futuro dell'evento è una definizione astronomica. Per essere semplici, se il sole dovesse esplodere, noi qui sulla Terra ce ne accorgeremmo otto minuti dopo, ma in quegli otto minuti saremmo già compresi nel cono di luce del fenomeno dell'evento, dell'esplosione, la luce dell'esplosione, quindi saremo virtualmente già morti, la nostra fine sarebbe già segnata. Ed è quello che succede al protagonista del mio libro, non sa di essere fin dall'inizio dentro il cono di luce di un evento mortale, un meccanismo che lo soffocherà. Nel libro c'è anche una postfazione di Giancarlo De Cataldo, l'autore tra l'altro di Romanzo criminale, una bella postfazione, devo dire, che ha inquadrato il libro come mi aspettavo, come speravo e come forse neanche sospettavo in un certo senso, insomma è riuscito a stanare delle cose che pensavo segrete, e invece evidentemente è un lettore attento e sensibile. Sicuramente sto scrivendo qualche cosa altro, credo molto diverso da questo primo libro, che forse si è portato appresso tutti i problemi del primo libro, i problemi di quando uno scrive, insomma, fai conti con tante cose. E poi io ovviamente continuo nel mio lavoro, è quello di sceneggiatura, stiamo scrivendo una commedia per il cinema con Ficarre Picone, programmi televisivi, insomma, con la scrittura ci sono vari aspetti, vari lati, vari modi di usare la scrittura, e questo, insomma, del romanzo, della narrativa è uno di quelli che sto esplorando. Grazie.